8 marzo, giornata internazionale della donna. Luisa Menduni è caporedattore dell'Ansa, l'agenzia che a Bari ha una tradizione di guida tutta al femminile, una realtà molto rara nel panorama italiano. Bisogna sconfiggere molti pregiudizi che ancora ci sono purtroppo, ma in tutti i settori lavorativi. Senti, come mai ci sono poche donne direttrici? Mi vengono in mente Luciana Nunziata, l'Huffington Post, Norma Rangeri al Manifesto e poi Daria Bignardi, forza retri? Perché per le donne purtroppo è ancora una corsa ad ostacoli, quindi non tanto si è fatto, ma tanto si deve ancora fare. Parliamo subito di maternità surrogata, cosa ne pensi? È un tema che ha diviso l'opinione pubblica, ma è un tema molto attuale. Io penso che la società sia notevolmente cambiata e che bisogna stare dietro questo cambiamento e quindi occorrono leggi che diano certezze e che diano regole ben precise. Luisa Menduni, prima di diventare caporedattore, è stata la giornalista che per l'Ansa ha seguito la regione sotto la presidenza di Vendola. Sentiamo come giudica la sua scelta. Sicuramente ha pensato molto e ha scelto ed è andato nel paese dove la sua scelta, il suo sogno si è realizzato.